È passato un anno dal 7 ottobre, quel drammatico giorno in cui migliaia di terroristi di Hamas hanno invaso le pacifiche comunità di Israele ai confini con Gaza, portando morte, distruzione. Ho deciso di unirmi al viaggio di solidarietà del KKL Italia, impegnato a sostenere le comunità accolpite e a riportare speranza nei luoghi della strage. Attraverso le testimonianze dei familiari di coloro che sono stati rapiti e uccisi nel tunnel di Gaza, vi raccontiamo la voce di Israele. It's very difficult to start every day a new day, but we have to be brave in front of us. Hamas committed crimes against humanity, murdering my cousin and kidnapping his body, and 240 people more. Bring them home, now. Nella foresta, dove tantissime persone, tanti ragazzi giovanissimi, sono stati uccisi, hanno torbito qualsiasi forma di crudeltà, il 7 ottobre di un anno fa, oggi noi tutti qui piantiamo un albero, l'albero della speranza, della rinascita, della solidarietà. Grazie a tutti.